dati contenuti narrati se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile il mistero dei bambini dire biribo 00 capitolo 43 quando a un certo punto senti che al tatto quella non era est era tipo un pelo ruvido che però non è pelo boh non so spiegarlo provai a toccargli la mano e avea le unghie lunghe mi alzai di scatto e lo guardai chi sei il capo e sparì porca troia mi sono abbracciato un mostro dallo schifo andai a lavarmi appena entra i bts che si stava lavando i denti est l'ho visto chi il capo oddio santo ti ha fatto del male no mi ha detto che era il capo e poi scomparso nel nulla come sempre te l'ho detto dobbiamo trovare indizi se non ci perseguiteranno per sempre andiamoci a fare una dormita sono esausto ci infilamo nel letto e ci addormentammo